Gianpaolo Coscia, Presidente della Camera di Commercio di Alessandria, oggi per la nostra città è una giornata molto importante, è davvero il punto di svolta? Penso proprio di sì, un protocollo di intesa, il Presidente del Ministro Salvini, il Commissario Mauceri, il Presidente della Regione, tutti i sindaci della parte del Terzo Valle, il Sinaco di Alessandria, nel momento importante per ridare vita a quello che è un nodo per arrivare forse più importante d'Italia, che sta esattamente al mezzo tra tutte le direttrici europee, per cui attraverso questo protocollo ci auguriamo proprio che si ristabilisca, quelli che erano i pasti di una volta del nodo alessandrino, dal punto di vista economico, dal punto di vista anche del lavoro che potrà dare questo sviluppato.